è ovvio tutti abbiamo trovato un ristorante un pub un bar dove abbiamo mangiato malissimo dove in generale siamo stati malissimo però però quell'impulso di fare subito una recensione negativa tirando fuori tutto quello che ci passa per la mente deve essere frenato attenzione una recensione negativa è assolutamente lecita e viva dio che ciascuno di noi possa raccontare legittimamente la propria esperienza ma ci sono dei paletti che devono essere rispettati il primo è che la notizia deve essere vera se no ha già valicato i limiti del diritto di critica il secondo è che la recensione deve essere pertinente al contesto in cui la fai e il terzo è che ci sono tanti modi per dire delle cose negative ma occorre usare delle parole che non risultino essere inutilmente gratuitamente offensive fuori da questi paletti la recensione negativa si trasforma in una diffamazione è il diritto penale che stè